Poi gli interventi di uno storico che sono sempre di alto livello, come giusto che sia, io ringraziando ancora per questo invito, sono qui con grande piacere, scendo molto più sulla concretezza delle cose. In questo periodo di tempo partecipo a tanti incontri e non vi nascondo incontri, dibattiti del sì e del no e non vi nascondo che mi trovo a volte in difficoltà. Perché mi trovo in difficoltà? Perché i miei interlocutori gridano, c'è un senso attentato alla democrazia, autoritarismo, un solo uomo al potere e così via. Io invece cerco di ragionare. Perché in realtà l'approccio che secondo me è giusto avere in queste cose consiste innanzitutto di cercare di guardare le carte, di vedere cosa c'è scritto e di ragionare se ti veramente ci sono dei rischi o non ci sono dei rischi. Questo guardare le carte è sempre, dal mio punto di vista, è piuttosto semplice. Questa riforma che è presentata da alcuni come epocale, come una tentata alla democrazia, in realtà riguarda due argomenti sprecisi. Oltre altre cose minori, ma sono cose o norme che non sarebbero state, non avrebbero motivate una riforma costituzionale. In queste minori ve ne sono anche alcune molto importanti, che forse è opportuno ricordare. L'introduzione del principio di trasparenza come principio costituzionale in una società come la nostra, dove la conoscenza delle cose che succedono all'interno dello Stato, della pubblica amministrazione è fondamentale. L'introduzione del principio della parità di genere a livello costituzionale sono altre cose importanti e significative. Si accennava alla tematica del referendum e delle leggi iniziativa popolare, però probabilmente non si avrebbe innescato un processo di revisione costituzionale perché in realtà sono temi significativi, ma non tali da determinare un percorso così lungo e difficile come il percorso di modificazione della Costituzione. I due temi li conoscete. Uno è il problema del bicameralismo, l'altro è il problema della ripartizione dei ruoli tra Stato e Regione come potere legislativo. Sul primo mi soffermo brevemente. È vero quello che diceva, chi mi ha preceduto, sull'atteggiamento di De Gasperi con il Senato come elemento di garanzia nei confronti della Camera, nell'ipotesi che la Camera fosse poi dominata da una maggioranza di sinistra, mentre il Senato eletto a base regionale dava delle garanzie che potesse essere una maggioranza non di sinistra, in ogni caso una maggioranza diversa. Ma questo sistema io non lo chiamerei di garanzia, lo chiamerei di paralisi, perché la garanzia consisteva nel non far funzionare lo Stato, perché se si fosse verificato ciò che De Gasperi temeva, e cioè che alla Camera dei Deputati ci fosse stata una maggioranza PC o del fronte, e dall'altra parte al Senato una maggioranza invece democrazia cristiana. Era evidente che non c'era la possibilità, ha vinto un governo e non c'era neppure la possibilità di governare in modo significativo. Ha ragionamenti sul compromesso storico di una collaborazione fra le forze sinistra e la democrazia cristiana o le discendenze della democrazia cristiana, siamo arrivati 30-40 anni dopo. In quel momento una grossa coalizione non sarebbe stata neppure pensabile, perché stava introducendosi la cortina di ferro, era in atto all'inizio della guerra fredda. Quindi era un sistema di garanzia che portava alla paralisi. Da allora i tempi sono molto cambiati. In quell'epoca in realtà, molti non se lo vogliono sentire dire, ma di fatto il Parlamento non era altro che la cassa direzionanza delle segreterie politiche dei maggiori partiti. Le decisioni venivano assonte all'interno della segreteria politica della democrazia cristiana, in certi casi eventualmente contrattate anche con le forze di sinistra, per il timore che una certa prospettiva politica non potesse realizzarsi per la forza dei sindacati e così via. Di fatto il sistema era chiuso in una presenza dominante della democrazia cristiana senza un'effettiva capacità di alternativa. Si è parlato in allora di democrazia bloccata, democrazia incompleta. Questo sistema finisce attraverso un percorso lunghissimo. Oggi noi siamo di fronte a una situazione totalmente diversa. Una situazione che a mio giudizio si caratterizza in modo molto forte per una forte, una relevantissima crisi delle relazioni tra Parlamento e Governo. Chi si occupava di questi temi nel tempo ha sempre pensato che il nostro sistema statuale avesse un deficit, una mancanza nel fatto che il potere esecutivo era troppo debole. Vi faccio alcuni sintomi di questa debolezza. Un sintoma a tutti evidente è quello esatto dal fatto che da noi i governi si succedono frequentemente, che un governo duri oltre un anno, un anno e mezzo è già un record, se arriva a due anni è un record, perché di fatto si determinano delle situazioni per cui la compagine governativa non può andare avanti, ha difficoltà ad andare avanti. Se confrontate questa situazione con gli altri paesi europei con cui noi ci misuriamo quotidianamente, in questi paesi europei la situazione è totalmente diversa. Il governo si forma all'inizio della legislatura e normalmente dura tutta la legislatura. Se la legislatura è di 5 anni dura 5 anni, se è di 4 anni dura 4 anni. Ma a noi non succede mai. Un governo di legislatura che dura una legislatura, io personalmente non lo ricordo, è sempre stato necessario dar vita a delle modificazioni, che frequentemente erano una modificazione di compagine governativa ma molto anche modificazioni politiche. Essendo modificazioni politiche o anche di compagine governativa è evidente che il programma politico che il governo, che era stato inizialmente indicato, non poteva realizzarsi, veniva impedito. La situazione negli ultimi vent'anni si è ulteriormente aggravata. Se guardate la produzione legislativa del Parlamento, quasi tutta la produzione legislativa è frutta di decreti legge convertiti. Cioè il governo non ha la forza pure di presentare un disegno di legge. Se presenta un disegno di legge sa quello che presenta ma non sa quello che esce. Allora ricatta il Parlamento, emana un decreto legge, in modo tale che il Parlamento si trovi di fronte al fatto compiuto. E che in qualche modo il Parlamento deve prenderlo a lasciare. E siccome lasciare un decreto legge che è già prodotto da parte dei suoi effetti riesce difficile, quindi si procede a delle conversioni, a delle modificazioni, ma in qualche modo il governo riesce a realizzare il suo obiettivo. Ma la posizione di ricatto aumenta molto di più se considerato un altro fenomeno sempre più frequente, che è la questione di fiducia. Non solo fa un decreto legge, ma poi non riesce a farlo imbiotire al Parlamento. Allora poteva la questione di fiducia. E la questione di fiducia è un ricatto puro, scusate l'espressione non strettamente tecnica giuridica, per dirla con parole molto povere, perché in una situazione come quella italiana votare no alla fiducia significa probabilmente sciogliere la Camera. E quindi i parlamentari si trovano di fronte a un governo il quale cerca di realizzare un programma politico, ma evidentemente la maggioranza se non lo condivide o ci sono delle tensioni tali che non può realizzarlo fisiologicamente. Allora il governo opera una forma di ricatto di pressione con il decreto legge e in più aggiunge la questione di fiducia. È un sistema che deve essere modificato. Le modificazioni che si sono ipotizzate e quali sono state nel tempo? Ne ricordo due sole. Quella della bicamerale, presiuta da Lemma. La Commissione del Mercanerale aveva previsto addirittura le elezioni dirette del Presidente della Repubblica. voleva introdurre un sistema di tipo francese che evidentemente con un'elezione dirette del Presidente della Repubblica, che aveva delle componenti di gestione di potere statuale, ipotesi, rapporti con gli esteri, la sicurezza interna e così via, poi il governo dovesse essere sia un governo che avvesse la fiducia del Parlamento ma anche la fiducia del Presidente della Repubblica. Sistema francese. Quindi un forte rafforzamento del potere esecutivo. Secondo modello, che è nel 2006, maggioranza di destra, di Forza Italia, una riforma costituzionale che è stata respinta poi al referendum. Questa riforma prevedeva l'elezione diretta del Presidente del Consiglio e l'attribuzione al Presidente del Consiglio, quindi al governo, del potere di sciogliere le camere, oltre che del potere di nominare e revocare i ministri, limitando moltissimo il ruolo del Presidente della Repubblica. Entrambe le riforme rispondevano a un'unica esigenza, quella del rafforzamento del potere esecutivo perché la gestione dei rapporti tra il potere esecutivo del Parlamento è diventata sostanzialmente impossibile. Da questo punto di vista questa riforma è molto, io dico sempre una forma molto dolce, molto soft, perché non modifica in nulla i poteri del Capo e del Governo. La norma costituzionale della revisione è uguale alla norma costituzionale oggi vigente. I poteri del Capo e del Governo restano inalterati, ma restano inalterati anche i poteri del Governo in sé, dei singoli del Consiglio dei Ministri e così via. Qualche modificazione lì sarebbe stata opportuna, non è stata introdotta perché evidentemente non c'è la maggioranza. Si vuole lavorare, si è lavorato, cercando di avere un risultato minore, che non era quello di un forte rafforzamento del potere esecutivo, ma di creare un rapporto fisiologico fra maggioranza parlamentare e governo no, eliminando dal rapporto di fiducia politica una delle due Camere, il Senato. Il rapporto di fiducia politica oggi è soltanto con la Camera dei Deputati, sarà soltanto con la Camera dei Deputati, alla Camera dei Deputati competerà la totalità del potere legislativo con delle collaborazioni a livello di consigli, di consultazione con il Senato sostanzialmente, con qualche potere deliberativo del Senato, ma quantativamente minori anche se qualitativamente è pure importante, di modo tale che ci sia la possibilità che si crei una maggioranza che diavita a un governo che avendo un solo interlocutore il sistema diciamo di trappole trapolini, di inciucci, diminuisce. La possibilità che si creino dei rischi maggiori per la vita del governo non si azzera perché evidentemente anche la Camera potrebbe avere questi comportamenti scorretti, ma diminuisce di molto. Si elimina uno dei due possibili ostacoli. Questo è il risultato che si vuole raggiungere, che è un risultato sostanzialmente di snellimento dell'attività parlamentare. Tante bene che non è un problema di accelerazione, secondo me, ma un problema di qualità della normazione. Perché è frequentissimo che il disegno di legge eventualmente proposto dal governo, o che si lavora all'interno del Parlamento nel suo interparlamentare e subisca tali e tali condizionamenti per diventare un qualche cosa di sostanzialmente a volte quasi inapplicabile. Da qui il rinvio costante nei decreti attuativi della norma che viene a essere introdotta, nei decreti attuativi che non si fanno. Un Parlamento che può lavorare fisiologicamente in modo più tranquillo ha, a mio giudizio, la possibilità di dare vita a della normazione di migliore qualità. Questo è il disegno di fondo. Il disegno di fondo che si realizza attraverso una modificazione di quello che chiamiamo Senato. Senato che io non l'avrei chiamato ancora Senato, avrei cambiato nome se fosse stato possibile perché si eliminerebbero degli equivoci. Questo nuovo Senato non ha nulla a che fare con il vecchio Senato. Tant'è che la stessa riforma dice che il Senato è rappresentativo delle istituzioni territoriali, mentre la Camera dei Deputati è espressione della nazione, della sovranità popolare. Sono due cose diverse. Il problema di rappresentanza democratica si realizza pienamente nel nostro ordinamento con la Camera dei Deputati, con i consigli comunali, con i consigli regionali. Il Senato è una struttura di secondo grado rispetto alle istituzioni territoriali perché ha lo compito non di interpretare la volontà della nazione, ma ha il compito di interpretare le istanze delle regioni e dei comuni. Quindi ha un ruolo diverso. È un modello che è analogo a quello che è presente in altri ordinamenti, perché sia Germania che Francia, ma qui ho uno studioso che poi facilmente può correggere, mi dico delle cose sbagliate, hanno una seconda Camera che è pur sempre espressione dei territori rispetto alla prima Camera che è invece espressione della sovranità popolare. Potevano farsi un maggior numero di senatori, o meno numero di senatori, si poteva dare più poteri o meno poteri, ma sono particolari su un disegno che resta un disegno logico e coerente e un disegno che a mio giudizio si caratterizza forse per essere un po' debole sotto il profilo del rafforzamento del potere esecutivo. Cioè è proprio il contrario di quello di cui, quando faccio i dibattiti, si venga accusato di essere portatore e introduttore in Italia di un sistema autoritario. Dal punto di vista dell'autoritarismo il sistema resterà sostanzialmente inalterato rispetto a quello attuale. Interviene poi la legge elettorale, che sappiamo tutti che era predetto uno snodo. Però anche qui il ragionamento da fare è sostanzialmente questo. Questa modificazione costituzionale è valida in sé, indipendentemente dalla legge elettorale a mio giudizio. Anche con una legge elettorale maggioritaria, scusate, non maggioritaria ma di tipo proporzionalistico, noi avremo pur sempre un vantaggio ad avere una sola camera espressione del popolo che si confronta con il governo, invece di due. Essendo due, c'è la... Zagrebreschi riporta in questo suo libretto una frase di un abbato AIS, che lui cita come fosse un grande consensore, che non so chi era. Magari ci dice qualche cosa. Il quale AIS sostanzialmente dice, ma se sono uguali sono un doppione, se sono diverse sono la paralisi. E questa è la realtà sostanziale di questa riforma. Io non vorrei dire niente altro, ci sarebbe poi da pagare il secondo punto dei rapporti per questa regione, ma magari... D'accordo, passo ancora la parola al mio collega e vi ringrazio. Applausi 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 Applausi